Benvenuti nel mondo degli orologi Timberland Brands. Il marchio di orologi Timberland Brands, una divisione del noto brand di calzature e abbigliamento Timberland, si concentra sulla creazione di orologi robusti e funzionali per gli amanti delle attività all'aperto e degli sport estremi. La collezione di orologi Timberland Brands è caratterizzata dall'utilizzo di materiali resistenti e duraturi come l'acciaio inossidabile, il titanio e il vetro zaffiro antigraffio. La collezione comprende modelli per uomo e donna, con una vasta gamma di stili che spaziano dal classico al contemporaneo. Il Timberland HT3 Outdoor è uno dei modelli più noti, un orologio ideale per le attività all'aria aperta. Il design è caratterizzato dalla cassa in acciaio inossidabile, dalla lunetta girevole unidirezionale, dal quadrante con indici luminosi e dalla lancetta dei secondi con punta arancione e display analogico con cronografo e data finestrella. L'orologio è dotato di un movimento al quarzo svizzero, per garantire la massima precisione. Un altro modello di successo è il Timberland della collezione Chocorua, un orologio robusto e resistente alle intemperie, ideale per le escursioni in montagna. La cassa è realizzata in acciaio inossidabile, e il quadrante è dotato di indici luminosi per una buona visibilità e in condizioni di scarsa illuminazione. La collezione Timberland Brands comprende anche orologi con cinturini in pelle, cinturini in nylon e cinturini intercambiabili, per una maggiore versatilità e personalizzazione. I materiali utilizzati nella produzione degli orologi Timberland Brands sono di alta qualità e resistenti alle intemperie e alle condizioni estreme, garantendo una lunga durata nel tempo.